buongiorno allora oggi sono in vena di bricolage infatti sono vestito da lavoro vestito sempre uguale e quindi avevo deciso di creare una cassetta da legna contenitore per le legna un contenitore per le legna che da tempo volevo fare che da tempo volevo realizzare ok allora prima cosa andiamo a prendere questo si deve eliminare qua c'è la cassetta 44 per un metro altezza poco meno di 30 quindi 44 un metro per 33 di altezza andiamo ora prima di fare la cosa a mano prima di tagliare legno a caso ci mettiamo qua e disegniamo qualcosa voglio matita senza punta vediamo se riesca a riprendere qualcosa allora cassetta di legno altezza quant'è la altezza 30 lunghezza 100 circa profondità 44 quindi non si vede niente qua qua ok non so se ci facciamo un cover più non lo so non lo so delle tavole hanno una larghezza standard io così non li taglio dovrebbe uscire una cosa così bene andiamo qui bene siamo fuori questo è il mio banco da lavoro che puntavo un tavolo un tavolo vecchio un tavolo la c'è la legna e cominciamo subito eh eh lo ti metto qua così ok c'è 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 la prima cosa dobbiamo bisogna vedere la larghezza delle tavole 13 e mezzo avevamo 44 no giusto e mezzo sono 41 40 e mezzo 40,5 ci va bene ma noi facciamo il tavolo quindi facciamoci il conto di quante tavole ci sono 1 2 3 9 da 1 metro giusto e 6 da 40 ok allora il metro allora tutte da un metro non essere tutte così da un metro 9 pezzi 9 pezzi da un metro qui sono stupido come una capra tutto così bordelli non ne fa no stupido ma che precisione ma che precisione ma se più il telefono dovete capire come sta messo sto telefono qua sopra se lo vedete se lo vedete sono un cretino se cade quel telefono là sono caldi si amari è lì questa violenza siamo a 3 ragazzi mi sto facendo prima di tutto le protezioni per le mani come faccio io poteva essere di un metro no? non è tutto tutto prendiamo un altro vai ma niente quanto diamo? andiamo a 6 andiamo avanti andiamo avanti devo fare sempre sta cosa qua e guatla guatla ecco l'ho 7 8 the last one ma questo a casa porco giugno taglio di là 2 4 6 8 1 9 questa sarà la nostra base questa là base si immagina che questa è della dimensione adatta? no guardala allora questa è un po' così ok e poi ci abitiamo no yeah guatla per renderla più potente uuuuuh 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 e questo è la nostra base ci dobbiamo avvitare i luigi sperando che la tavola non si spacchi tecniche la manguardia eh 90 degrees speriamo che non si spacchi tutto uuuuuh 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 se ci metto le mani sotto come cazzo normale no uuuuuh 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 perfetto perfetto voilà cassetta finita via ecco ora dobbiamo tagliare le tavole 37 preciso non è neanche 37 qua dio i due sono le cose così mi fa un po' anche carico dentro qua per forse non è meglio matita dito matita 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 c'è qua guarda che qua dove sono molto precisissimi io lo taglio qua poi non entra uuuuh forse che le tavole sono stotte come è giusta è giusto è giusto è giusto uuuuh 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 ora devo stare così in questa posizione 4-5 ore monotallice buco no buco buco un abitatore uuuuh eccola io non dovevo muovo una mi è andata perfetto questa sta fermata l'auto bello bello ora è molto semplice basta incastrare qua così va bene va bene quindi adesso basterà eh vedete qua buco del là eh eh guarda ok oh ma c'è sto problema no non ce lo pensavo dobbiamo fare un rinforzo che farà cagare proprio cagagare ho trovato delle cose di plastica che potrebbero svoltare queste ora in teoria è solo in teoria non dovrebbe staccarsi eccola qua cassetta di legna è finita andiamo e la sistemiamo sotto e poi le diamo fuoco no non le diamo fuoco mentre il registro la porto giù non è vero niente non ci ha portata stiamo giù e la sistemiamo ecco qua qua eh 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 fugghiamo ok fugghio ragazzi ah lavoro è terminato mi è uscito la cosa distretta mi è pagata ma è meglio di prima quindi niente se il video vi è piaciuto lasciate un like lasciate un commento suonate suonate la campanella attivate la campanella se vi scrivete suonate la campanella e niente suonate la campanella al prossimo video ciao 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 ciao